Di bond si è sentito parlare tanto a livello europeo nel corso dell'emergenza sanitaria, ma i bond immaginati da diversi commercianti di Biceglie sono una tangibile scommessa sulla ripartenza del settore della ristorazione e non solo nella città del Dolmen. Sono dei bond acquistabili in ricettorie, in bar, e hanno l'obiettivo di promuovere le attività commerciali del settore turistico di Biceglie, però sono acquistabili anche da altre città. Si chiamano Vivi Biceglie e Bond, saranno spendibili in 32 esercizi commerciali bicegliesi ed in 5 sarà possibile invece acquistarli con un risparmio fino al 25%. Due itali a disposizione, da 10 e 20 euro, ma avranno un valore di 12 e 25 euro, un'idea nata da Asso Locali, sostenuta da ConfCommercio e presentata questa mattina e che varrà per il momento sino al 31 luglio. Sono già acquistabili, già da oggi, nei tabaccai, nei bar associati. Un investimento sulla ripartenza di attività commerciali che hanno subito un gravissimo contraccolpo dalla emergenza sanitaria e che provano con azioni come questa a valorizzare le proprie peculiarità, incuriosendo ed incentivando i cittadini. Questa iniziativa nasce, dicevo prima a qualche suo collega, sull'impulso dell'associazione dei locali della ristorazione che hanno sofferto tanto in questo periodo e che hanno voluto con questa iniziativa, che è la prima di una serie, dare un po' di fiducia, di aspettative ai cittadini, e non solo i cittadini della nostra città, a venire e a vivere il nostro territorio. L'idea parte dalla città di Biceglie, che di fatto si pone come un'apripista a livello nazionale di questa iniziativa, potenzialmente replicabile anche in altre realtà. Questa voglia di fare e di pensare a qualche cosa che vada in questa direzione c'è. Ci sono tante iniziative simili. Questa è una di quelle che abbiamo avuto il coraggio, o hanno avuto il coraggio di lanciarla.